Visto che hanno parlato due colonne dell'atletica, soprattutto del settore velocità, a me è venuta in mente una frase per i velocisti. Correre veloce è facile e bello. Correre veloce è bene e tecnicamente è difficile. Estremamente difficile. Tra questa piccola frase, mettendo dentro la parola tecnica, ci mettiamo dentro tutto quello che sia Vito e che Francesco hanno appena detto. Cioè lavoro tecnico, tecnica di base, uso del piede, l'impulso del piede a terra, il modo di correre, la posizione eretta del busto, tutte cose tecniche che devono essere insegnate a livelli giovanili. Io sono più di 20-25 anni che sono responsabile per il Veneto della velocità. ho fatto non so quanti raduni, sia mini raduni quelli giornalieri che raduni estivi, ho fatto anche qualche raduno nazionale estivo. ho sempre picchiato duro sulla tecnica di corsa. I nostri raduni estivi, per esempio, si basano, sia no, a parte gli allenamenti più giornalieri, ma basati tutti, non lavorando in pista, ma sull'erba, in modo che i ragazzi imparino a sentire l'uso dei piedi. L'erba dà risposta zero, la pista ti dà una risposta. Se si sentono, se sentono questo uso dei piedi, che diventa esplosivo, che deve essere pronto e reattivo, che come ha detto Vito, la classica posizione al martello, il richiamo veloce del piede sotto, sono tutte cose che permettono a questo atleta, a questo giovane, di migliorarsi nel tempo se è aiutato e quadruviato da un tecnico. Il tecnico, per me, anche io quando avevo qualche dubbio, faccio, non faccio, cosa devo fare? La prima cosa che facevo, andavo a parlare con i miei amici tecnici, ho questo problema, cosa devo fare? Questo mi permetteva soprattutto di allargare il mio bagaglio tecnico, allargare le conoscenze che qualcuno poteva dirmi, un input che mi permetteva di migliorare l'azione di corsa del mio atleta, o degli atleti che ho io. Questo mi ha permesso, nella mia evoluzione di tecnico, di riuscire a, non dire avere l'occhio, però questo me l'ha detto il professor Vittori, tempi che furono, quando allenavo un velocista romano. Tu hai il naso, nel senso, non che ce l'ho grande, nel senso che capisco quando devo lavorare su certi punti. Vedevo delle difficoltà di azione di corsa, e mi diceva, tu hai, capisci quel momento in cui devi lavorarci sopra. Per me, quando questo mi ha detto questa cosa, per me è come che mi avesse detto, sei un tecnico. e questo mi ha permesso di andare avanti, continuare e cercare di inculcare a tutte quelle persone con cui io parlo a livello tecnico, due o tre cose fondamentali. tecnica di corsa, continuare a migliorare la velocità con la forza, che può essere la forza soprattutto esplosiva, lavoro di resistenza, lavoro sia aerobico che resistenza in pista. Cioè, tutte cose che devono permettere a questo velocista ipotetico di migliorarsi gradualmente, anno per anno. Quando io vedo certi velocisti che in un anno sparano robe pazzesche, ho detto, speriamo che resista. Speriamo che il prossimo anno lo veda. E questi io li chiamo meteore. Ne ho visti tante, ho visto tante meteore. E ho visto pochi velocisti arrivare al punto in cui dovevano arrivare. Cioè, oltre alla cala nazionale, incontri internazionali, mondiali, olimpiadi. Ne ho in mente due o tre. Calvan, Tumi, il mio vecchio Pierfrancesco Pavoni. Cioè, ragazzi che hanno cominciato da zero e sono arrivati a questi risultati lavorandoci sopra. Ma soprattutto hanno trovato nella loro strada tecnici validi. E qua, soprattutto, questo per me è una nota dolente. Come ha detto Vito, ha detto Francesco, la tecnica di corsa molte volte viene messa in disparte. Si parte direttamente al lavoro, forza, pista. E io questo non riesco a concepirlo. La mia prima cosa, la prima cosa che io entro in campo e comienzo a far lavorare con i miei ragazzi è tecnica di corsa. Sono noioso, sono pedante, sono anche certe volte troppo, ma li continuo a correggere nell'azione di corsa. Il movimento del braccio, la posizione del busto, l'uso del piede, tutto quello che ne consegue perché dentro di me io ho la mentalità o l'ipotetica, diciamo, visuale del velocista. Per me il velocista deve correre così. Esempio pratico. Per me il vero velocista era Carl Lewis. Come corre Carl Lewis? Per me era l'emblema della corsa. I velocisti che abbiamo avuto, grandi e grossi e enormi, che sembravano che non fossero neanche velocisti, ma lanciatori, ho detto, questi faranno tempi enormi, ma non avranno un grande tempo, non avranno un grande valore, cioè non avranno tanti anni di corsa. Mi sembra che Carl Lewis ne abbia fatti quasi quattro olimpiadi. Ha fatto quattro olimpiadi. E l'esempio l'abbiamo da Pietro. L'esempio l'abbiamo da Pietro, ha fatto cinque olimpiadi Pietro. Io mi sono allenato con lui. Non devo dire, lascio perdere gli allenamenti che faceva, perché io con lui sono resistito una settimana. E questo andava avanti, andava avanti, andava avanti, andava avanti. E il professor Vettori faceva, oltre agli allenamenti, tecnica di corsa, tecnica di corsa, tecnica di corsa, per insegnargli a correre. Io non so adesso se mi sono spiegato, ma per me è la cosa questa fondamentale. Oltre al lavoro di forza, forza esplosiva, forza massima, tecnica, balzi, salite, tutto, metteteci dentro quello che volete. Cose che per un giovane velocista deve fare. E la base della corsa è la tecnica. Vogliamo avere dei bravi velocisti, tecnica di corsa. Come vale per l'ostacolista? L'ostacolista se non fa lavori sull'ostacolo e tecnica di corsa fra i vari ostacoli, non andrà mai avanti. Ho finito. Una cosa che con gli anni è andata quasi persa e hanno prevalso, sono d'accordo con Michele, troppo gli aspetti dell'allenamento sulla tecnica e poi, come aveva già detto prima Francesco, le esercitazioni di potenza muscolare o di forza vanno viste in funzione della tecnica di corsa. Cioè, facciamo un esempio pratico, per sostenere il ginocchio alto nella corsa lanciata tu devi avere una certa dotazione di forza, altrimenti non lo puoi fare. Quindi è questo continuo scambio tra il lavoro muscolare che si alterna al lavoro tecnico e progredisce piano piano con il progredire della carriera dell'atleta. Alla da